Musica Ben ritrovati, buongiorno a tutti cari telespettatori di FanTV Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali di venerdì 18 settembre 2015 Rassegna che come di consueto si apre con il santo del giorno Oggi è Santa Sofia Martire, il sole è sorto alle 6.50 e tramonterà alle 19.15 Allora adesso io devo farvi vedere il tempo e allora lo andiamo a caricare in questo momento Sul nostro touchscreen sono naturalmente le previsioni del tempo della protezione civile delle Marche Che adesso come vedete si sta aprendo e vediamo che cosa prevede per la giornata di oggi Oggi è venerdì 18 settembre come dicevo, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso Con precipitazioni isolate nel pomeriggio lungo la fascia collinare In diminuzione le temperature nei valori massimi I venti sono sud occidentali di brezza tesa, sempre all'interno E sud orientali di brezza tesa lungo la costa Quindi avremo ancora una giornata di vento caldo Il phon acceso avremo tanto per capirci Il mare sarà da poco mosso a mosso Per domani sabato 19 il tempo si annuvola ancora di più Andiamo verso il cattivo tempo, andiamo verso l'abbassamento delle temperature Come vedremo Le temperature infatti sono già in lieve diminuzione I venti sempre questa volta nord-occidentali Moderati di brezza tesa lungo la fascia costiera Il peggioramento però vedete arriva nella giornata di domenica Quando avremo cielo nuvoloso con schiarite sempre più ampie Nella seconda parte della giornata Avremo rovescio temporale domenica Sparsi in esaurimento come dicevo dal pomeriggio Temperature in ulteriore lieve diminuzione I venti sono nord-occidentali in rotazione da nord-est nel pomeriggio Il mare sarà mosso Dicevamo la prima parte della prossima settimana Quindi da lunedì avremo tempo stabile con probabile peggioramento A partire dalla giornata di giovedì Quindi una prima parte lunedì, martedì, mercoledì Abbastanza stabile Con temperatura ancora buona, decisamente buona Poi dopo cambierà il tempo Allora, dicevamo le ultimissime della notte Ieri sera alle 23 a Carrara di Fanon All'interno dell'ex Cava È scoppiato un incendio Probabilmente è partito dalla strada Qualcuno magari sopra pensiero Oppure per cattiva abitudine Ha buttato una cicca di sigarette E poi da lì il fuoco è iniziato a camminare Ha divampare, ha preso tutta l'area incolta Diciamo così L'area incolta del campo Quello che sta dentro la Cava di Carrara E guardate che cosa ha combinato ieri sera Qui siamo Siamo appunto all'interno All'interno, insomma All'esterno del perimetro della Cava Guardate come ha camminato questo fuoco Queste sono le immagini che si riferiscono Ad un'abitazione, la prima che si incontra Partendo dalla Flaminia Quindi dal basso La prima che si incontra sulla destra Che a un certo punto Insomma Se l'è vista un po' così così Poi per fortuna i vigili del fuoco E qui apro una parentesi Davvero Io l'ho fatto i complimenti poco fa Ecco, qui si vedono proprio all'azione Nel momento Questa è l'altra casa Quella L'ambita da una lingua di fuoco a nord Diciamo Più a nord E in alto Rispetto alla Flaminia I vigili del fuoco Dicevo E gli ho fatto i complimenti Pochi minuti fa Quando li ho sentiti al telefono Hanno lavorato da ieri sera alle 23 Quando è scattato l'allarme Fino a questa mattina alle 7 Fino a poco fa E gli ho fatto i complimenti Perché li ho visti lavorare Sono stato lì fino verso l'una di notte Li ho visti lavorare da vicino E devo dire Fanno un lavoro E ieri sera in particolare Un lavoro strepitoso Straordinario Impagabili Io non so come Facciano a lavorare in quelle condizioni Dove vedete le fiamme Poi soprattutto in certi momenti Quando il vento soffiava fortissimo Perché c'erano le famose folate di vento Aumentava il vento Si vedeva tutto il fuoco aumentare E rischiarare la notte Pensate Che da una parte era un'immagine spettacolare Incredibile Ma dall'altra Vedete Metteva paura Perché qui siamo a pochi metri Dall'abitazione Qui sono andate in fiamme È andato in fiamme un po' di vigneto Qualche ulivo Purtroppo non si è salvato Però insomma A pochi metri c'erano C'era un'abitazione C'erano le case E hanno fatto un lavoro straordinario Un lavoro incredibile I vigili del fuoco Quindi davvero complimenti Con grande professionalità E davvero fanno un lavoro Incredibile Un lavoro Che è una missione più che altro Più che un lavoro Ecco Queste sono le immagini Poi naturalmente Guardate questa immagine Ecco Questa è eloquente Questa dice tutto Guardate in che condizioni Proprio a un metro Dalle fiamme Sapendo che Dietro c'era un'abitazione Da salvaguardare Da proteggere Con un fuoco Che divampava Sempre di più E aumentava E camminava Allora Questa è la notizia Che troverete Non troverete Sui giornali Ovviamente questa mattina Perché i giornali Ieri sera alle 23 Erano già state Le edizioni Erano già state chiuse Però Noi come sempre Vi abbiamo aggiornato E vi aggiorneremo anche Nel nostro sito internet Occhio alla notizia Punto it La redazione ha appena caricato La notizia Ma poi tra pochi minuti Arriveranno anche Altre fotografie E vi faremo vedere Anche i video Appunto Che abbiamo realizzato Nella giornata di ieri Guardate Che incendio Che proporzioni Ha avuto A un certo punto Questo era il momento Massimo Dell'espansione Va bene Allora Questa è La notizia Poi ne abbiamo Un'altra Che vi daremo Nel corso Della giornata Adesso invece Andiamo a leggere i giornali Intanto vi dico subito Che non c'è il messaggero Perché ha avuto Dei problemi Nel caricamento Delle pagine In pdf Quindi ci limiteremo Soltanto al Corriere Adriatico E al resto Del carlino Partiamo proprio Dal Corriere Adriatico La buona notizia Soprattutto per Quelli che lavorano In mare E che devono Attraversare Partire O rientrare In porto È che Da ieri È partito Finalmente Il dragaggio Un dragaggio Mai eseguito Prima Saranno estratti 25 mila metri cubi Di fanghi Poco inquinati Previsto Un secondo Intervento Analogo Evento Tanto Eccezionale Che il sindaco Ha illustrato L'operazione Direttamente Sulla banchina Del porto Alla presenza Degli operatori Dalla programmata Cassa di colmata Di Ancona Un terzo Della capienza Sarà riservata A Fano La cassa di colmata È Come dice la parola stessa Un Immaginatevelo Come un contenitore Che sta A largo di Ancona Dove Si andranno A buttare I fanghi Allora Fermiamole Restiamo in mare Fermiamo Le trivellazioni Un convegno Di Possibile Possibile Il nome Il nome Di un Di un Di un Organizzazione Alle ore 17 In municipio L'onorevole Brignone Lo scienziato Setti E il fanese Ruscitti Parleranno Sconsiderato Usare combustibili Fossili Fermare Le trivellazioni In Adriatico È ovviamente L'obiettivo Che si prefigge Questa nuova forza Politica Si chiama appunto Possibile Ed è stata fondata Da civati La cui Delegazione Fanese Organizza Per oggi Alle 17 Nella sala Del consiglio Comunale Appunto Questo convegno Finalizzato A sensibilizzare La cittadinanza Contro Tutte le Concessioni Per la Ricerca Di fonti Energetiche Che potrebbero Progeducare Lo stato Ambientale Del nostro Mare Stavo pensando Nel frattempo Ma questo Lo faccio Insieme a voi Stavo pensando Nel frattempo Continuiamo A cercare Il petrolio Tutte queste cose qua Nello stesso tempo Abbiamo devastato Le colline Perché si pensava Che ormai Il combustibile Fossile Fosse una roba Della preistoria Invece Continuiamo A trivellare Continuiamo A mettere Gli specchi In campagna Adesso per fortuna Lo scempio Si è fermato Ma ormai I buoi erano usciti Tutti quanti Insomma Abbiamo rovinato Tutte le colline Continuiamo A bucare il mare Non lo so Io Mi domando Se c'è qualcuno Che ci pensa A queste cose Oppure facciamo Abbiamo avuto Un momento Di ubriacatura E di sbornia Per questi pannelli Fotovoltaici Sembrava che tutti Dovevamo diventare Imprenditori Del sole Dell'energia elettrica Con tutti questi pannelli Fotovoltaici C'era la corsa A montarli A farli Perché tutti Vedevano i dollari Negli occhi In realtà poi Pare che questa cosa Non sia poi neanche Tutto sto verano Infatti adesso I pannelli fotovoltaici Non ne parla più nessuno Fano 5 Stelle Fano 5 Stelle Seri ha perso tempo Sei mesi fa Ci smentì Il gruppo consigliare Di Fano 5 Stelle Rivendica la primo genitura Della soluzione Per il conferimento In mare Dei fanghi Prelevati dal porto di Fano E accusa la giunta Di aver perso tempo E nel metterla in atto Tanto che ora Correrebbe il rischio Di non terminare i lavori Prima della fine Del fermo pesca Allora La sanità invece Sulla sanità Sempre il resto Il carlino La direzione La risposta Alla crisi di Marche Nord La direzione affidata A Maria Capalbo Che vedete Nella fotografia Torna in sella Scrive nella disascalia Il carlino Questione di giorni Perché il presidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Ha annunciato Che Sistemerà Tutti gli ultimi Tasselli Di questa Sanità Dobbiamo dare una scossa Dice Aldo Ricci L'attuale direttore generale Dell'azienda Ospedale Riuniti Marche Nord Aldo Ricci Andrà al posto Di Bernardo In regione Poi Sotto Oncologia Il professor Cascinu Sbatte la porta Il noto medico Pesarese Lascia Polemicamente Torrette Per andare A Modena Il centro oncologico Regionale Non si farà mai Dice Prevalgono sempre I campanilismi La Scavolini Scavolini continua A crescere Un'azienda sana Un'azienda che Sta superando Anche questo momento Di grande Crisi Nel 2014 Quasi 5 milioni Di utile Un fatturato Un fatturato a 170 milioni Di euro Nuovi negozi Monomarca La nomina Consigliere delegato Al fianco di Walter C'è la figlia Fabiana Poi sotto Vedete Dicevamo Del caldo Del vento caldo Settembre Con il Fon Quello che serve Per asciugare i capelli Ieri Termometro A 36.4 Cioè Un garbino Davvero Da record E ieri Alle 15.43 Del 17 settembre L'osservatorio Valerio Di Pesaro Insomma Rivela Rileva La temperatura In città Di 36.4 gradi Ma io credo Che Qua Fano Anche qualcosina Forse In più Dicevamo Del dregaggio Anche Il Carlino Naturalmente Sulla pagina di Fano Si occupa Di questo Importante Lavoro Di bonifica Parte il dregaggio Il portofanese Torna a respirare Soddisfazione Tra gli operatori Contento il sindaco I 5 stelle Ha fatto quello Che dicevamo Noi Ma che dicevamo Che dicevate voi Che dicevamo Noi Loro Tutti Essi Chiunque Da anni Pure il vescovo Quasi spessissimo Nelle omelie Continuava a dire Togliete quel fango Date la possibilità Di lavorare Ai marinai Quindi Se dobbiamo Metterci una bandierina Ce la mettiamo tutti In quel porto Perché chiunque Ha detto Di fare Presto Questo dregaggio Poi chiaramente Loro Siedono Nei banchi Del consiglio Quindi hanno La possibilità Rispetto a noi Che parliamo Da fuori Di fare qualcosa Di concreto A Cartoceto Invece Con me E qui con me Parla il sindaco Enrico Rossi Ponte commerciale Con Spero di aver detto bene Adesso non so È un virgolettato Ma No Non sono parole Di Enrico Rossi È Lucio Pompili Che va a Monaco Ma vuole portarsi con sé Tutta la provincia Enogastronomica Lo ha annunciato In una conferenza stampa Nel suo ristorante Ora aperto solo per cerimonie O eventi Su prenotazione Quindi Cancellate quello Che avevo detto all'inizio Ecco Con me Ponte commerciale Con Monaco Per i nostri produttori Opportunità golosa Lucio Pompili Ha illustrato I contenuti Del suo progetto Vedrete Sarà un successo C'è bisogno Di cibi veri Chiudiamo la parentesi A proposito Del sindaco Enrico Rossi Vi ricordo Che Primo cittadino Ed è la novità Ve l'annuncio Poi chiudiamo La novità Di quest'anno Primo cittadino Non sarà Soltanto il primo cittadino Di Fano Ma sarà anche riservato Ai sindaci Che si alterneranno Poi qui Nei nostri studi Nei prossimi Settimane Per tutta la stagione Fino al prossimo maggio Si alterneranno I nostri studi Quindi il primo cittadino Ospiterà Anche I sindaci Dell'entroterra Quindi Avrete modo Visto che Fano TV È seguita Moltissimo Anche nell'entroterra Avrete modo Di confrontarvi Di chiedere Informazioni E di parlare Anche E di fare segnalazioni Anche ai vostri sindaci Il partito democratico Spinge Sulla ciclabile Da realizzare Sulla Fano Urbino Il ministero Nega la revoca Di dismissione Biancani propone Il modello Pesero C'è questa importante Ci sono queste importanti Novità in vista Per la Strattonata Linea ferroviaria Fano Urbino Il ministero Dei trasporti Ha appena bocciato La proposta avanzata Dall'ex governatore Spacca Una proposta avanzata In periodo elettorale Che chiedeva La revoca Della dismissione In una lettera Ufficiale Arrivata in regione Il ministro Il ministero Dichiara Categoricamente Che la domanda Di revoca Non presenta I requisiti Per L'accoglimento Poi E qui Siamo davvero Quasi in Chiusura Da Fossombrone Vogliono privatizzare La sanità Il Movimento 5 Stelle Lancia Accuse E fa una raccolta Di firme Poi Dall'altra pagina Di Fano Prioritaria È la pulizia Dell'invaso Manca solo A Serrongarina Manca solo La decisione Sulla Via Valutazione Di impatto Ambientale Questo è l'acronimo Via L'intervento Aumenterà Le scorte Contro la Siccità Poi sotto Il vescovo Allarme droga Il vescovo Tra i giovani Un incontro Alle 19 Allo Chalet del Mar Per parlare Insieme agli addetti Ai lavori Della comunicazione Distorta E dunque La diocesi Con il vescovo Armando Trasarti In prima persona Scende in campo Per affrontare Un problema Tra l'altro In un luogo Frequentatissimo Dai giovani Che è lo Chalet del Mar Siamo all'Arzilla Nel tratto dell'Arzilla Di Fano Oggi pomeriggio Poi assicuro Trasparenza E Ciò che ha detto Sintetizzando tutto Maurizio Mandolini Che è il coordinatore A tempo determinato Dell'ambito sociale 620 mila euro Sono da sbloccare Dice il nuovo coordinatore Bene Ci fermiamo qui Non c'è altro Anche perché ormai È tardi Dicevamo Il messaggero Oggi Non siamo riusciti A scaricarlo Per problemi Che evidentemente Non riguardano noi Ci rivediamo Questa sera Sul sito internet Occhialanotizia.it Avrete tutti gli aggiornamenti Per quanto riguarda Appunto Le immagini Di questo incendio Che è stato spento Soltanto dopo Molte ore Di lavoro Da parte dei vigili del fuoco Questa mattina alle 7 Vi daremo tutti Tutti i raguagli E poi c'è un'altra Notizia di cronaca Che stiamo verificando Anche lì La potrete leggere Tra poco Sul nostro sito internet E poi questa sera Naturalmente Avrete tutti i particolari Nel corso del telegiornale Occhio alla notizia Grazie anche ai nostri Reporter di strada Vi dico anche che A chi ci invia Le fotografie E ci invia Le foto esclusive Ricarico il telefonino Di 10 euro Modo per dire Grazie Di questa Collaborazione Perché comunque È importante I vostri occhi Sono le nostre prime Telecamere Una buona giornata A tutti Arrivederci a domani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti